Il non pagare le multe stradali è un reato e può essere considerato come una forma di evasione fissima. Tuttavia, ci sono alcuni individui che cercano di evitarle utilizzando trucchi. Il fenomeno dei prestanome nel mondo dell'automobile è un problema che da anni affligge le forze dell'ordine e il sistema giudiziario italiano. Si tratta di una pratica illegale in cui un soggetto, detentore di un veicolo, lo fa passare di proprietà ad un terzo soggetto, Il prestanome, che, a fronte di un compenso, si tratta di una pratica illegale in cui un soggetto, detentore di un veicolo, lo fa passare di proprietà ad un terzo soggetto. Il prestanome, che, a fronte di un compenso, si tratta di una pratica illegale in cui un soggetto, detentore di un veicolo, lo fa passare di proprietà ad un terzo soggetto. Il prestanome, che, a fronte di un compenso, si tratta di una pratica illegale in cui un soggetto, detentore di un veicolo, lo fa passare di proprietà ad un terzo soggetto, il prestanome, che, a fronte di un compenso. Il risultato di questa pratica è che i veicoli circolano senza copertura assicurativa, senza pagare le tasse e i pedaggi dovuti e spesso vengono utilizzati per commettere reati come le truffe. Il risultato di questa pratica è che i veicoli circolano senza. Inoltre, grazie alla figura del prestanome, è difficile individuare l'effettivo utilizzatore del veicolo e, di conseguenza, risalire ai responsabili dei reati come le truffe. L'uomo è ora sotto indagine grazie alle analisi condotte dal responsabile dell'Ufficio Intestazione Fittizia della Procura della Repubblica di Milano della sezione di PG dell'Arma Carabinieri. L'uomo è ora sotto indagine grazie alle analisi condotte dal responsabile dell'Ufficio Intestazione. Questa operazione dimostra l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine e dell'utilizzo di tecnologie all'avanguardia per contrastare il fenomeno dei prestanome, che rappresenta un grave problema per l'uomo. Questa operazione dimostra l'importanza del lavoro. Ma come fare per prevenire questo fenomeno? Una possibile soluzione potrebbe essere l'introduzione di misure più severe e incisive nei confronti dei prestanome e dei loro cong. Inoltre, sarebbe opportuno promuovere una maggiore educazione alla legalità e alla corretta gestione dei veicoli, in modo da ridurre la diffusione di questa.